Il 14 gennaio al Teatro della Pegola di Firenze, Monica Guerritore terrà in prima assoluta una conferenza performance ad ingresso libero. Il titolo La nascita di un film. Il film in questione è Anna. L'opera prima alla regia di Guerritore e la prima pellicola in assoluto sulla vita di Anna Magnani, prima attrice italiana a vincere l'Oscar. Il 26 settembre 2023 ricorrono i 50 anni dalla sua morte. Con questa mia prima opera cinematografica, ha affermato la Guerritore, conto di riempire un vuoto su Anna Magnani. Torniamo a commuoverci per la sua faticosa vicenda umana e riaccendiamo la luce su di lei, un gigante. Come siamo abituati in teatro, anche nel grande mercato della produzione di contenuti audiovisivi, come film o serie, si deve fare comunità. Ha aggiunto la Guerritore, gli spettatori devono essere coinvolti nella nascita di nuovi progetti, sin dalla prima stesura di una sceneggiatura. La nascita di un film è dunque un'opportunità di incontro per riflettere sulle difficoltà di progettare, proporre e realizzare le proprie idee, attraverso la lettura in anteprima di alcuni estratti della sceneggiatura di Anna e aneddoti sul dietro le quinte di alcune delle sue interpretazioni femminili più iconiche, da Oriana Fallaci alla Penelope di Margaret Atwood.